nel nome del padre e del figlio dello spirito santo amen gesù ti amo con la tua volontà vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare alle preghiere di tutti e per dare al padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature mia divina maria ti amo nella divina volontà regina immacolata celeste madre mia vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia per chiederti questi spiriti più ardenti che mi ammette a vivere nel regno della divina volontà mamma santa tu che sei la regina di questo regno ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi perciò sovrana regina a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino estretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà tu mi farei da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di dio e come vivere in essa ave maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen è il frutto del tuo seno gesù santa maria di dio prega per noi peccatori adesso e l'ora della nostra morte di dio prega per noi peccatori adesso e ancora non solo richiesto di tuided atenção a male pregolniliyogini cindro e una mutua pure benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria di dio de dal libro di cielo volume 24 20 maggio 1928 messaggeri divini circolare celeste gli atti fatti nel volere divino formano l'estasi al creatore necessità della continuazione degli atti come questi formano tante ore per richiamare l'alba la vergine l'alba della redenzione stavo impensierita per una circolare giuntami per la casa della divina volontà tanto voluta dal venerato padre di francia e tanto da lui sospirata che non ebbe la consolazione di vederla compiuta ed aperta allo scopo da lui voluto ed ora finalmente da ciò che diceva la circolare spuntava il giorno forse prossimo dell'effettuarsi di essa onde io pensavo tra me sarà proprio vero che volontà di dio che io vi andassi ed i componenti di questa casa saranno esse le vere piccole figlie della divina volontà saranno esse il principio dell'inizio di quell'era divina del regno del fiat supremo sulla terra ma mentre ciò pensavo ed altro il mio dolce gesù si è mosso nel mio interno e mi ha detto figlia mia ogni detto opera e sacrificio che si fa nella mia volontà e per ottenere il regno divino sono tanti messaggeri che si spediscono per la patria celeste i quali portano la circolare divina e la fanno girare a tutti i santi agli angeli alla sovrana regina e allo stesso creatore dando a ciascuno l'impegno di preparare le diverse cose che ci vogliono per un regno così santo affinché tutto sia fatto con decoro con decenza e con nobiltà divina onde tutti gli abitanti della patria divina con questa circolare celeste nelle loro mani si mettono tutti all'opera di soddisfare al loro compito di preparare ciascuna cosa a loro imposta sicché la circolare della terra fa la sua eco alla circolare celeste e cielo e terra si muovono si occupano per il solo scopo del regno della mia volontà divina la terra per tutto ciò che necessita nell'ordine naturale la corte celeste per tutto ciò che riguarda l'ordine soprannaturale pare che cielo e terra si danno la mano e fanno a gara a chi faccia più presto a preparare un regno così santo se tu sapessi che valore tiene un atto fatto nella mia volontà come sa muovere cielo e terra come si sa aprire la via ovunque si mette in comunicazione con tutti ed ottiene tutto ciò che non si è ottenuto per tutti gli atti insieme per tanti secoli sono non un sole ma tanti soli per quanti atti si fanno che formano il giorno fulgido e smagliante del regno della mia volontà sulla terra gli atti fatti in essa sono spinti al lente supremo sono calamite che lo attirano sono dolci catene che lo legano sono rapimento in cui la creatura tiene la forza di formare l'estasi al suo creatore il quale rapito come in un dolce sonno dall'estasi che gli ha formato la sua amata creatura concede ciò che voleva dare da tanti secoli ma non trovava colei che estasiandolo con la sua stessa forza divina si rendeva rapitrice del regno della sua volontà divina come la creatura si muove nel mio fiat forma il suo atto così dio si sente rapire nel suo dolce sopore si sente disarmato e vinto e la creatura resta la vincitrice del suo creatore con questi preparativi succede come ad uno sposo che dovendo fare il suo sposalizio si prepara l'abitazione la stanza da letto tutti gli oggetti che ci vogliono per fare che nulla manchi poi si passa alle vestite lo sposalizio si fanno gli inviti tutto ciò fa decidere lo sposo di compiere ciò che lui stesso voleva ma se nulla si prepara e lo sposo perde tempo e mai si decide lui stesso si sente impacciato e dice fra sé mi devo sposare e non ho l'abitazione non ho il letto dove dormire non ho le vesti per comparire da sposa ma che figura devo fare e di necessità si toglie qualunque pensiero di fare lo sposo così questi preparativi gli atti fatti nella mia volontà le circolari sono spinte a muovere il mio volere che venga a regnare in mezzo alle creature e le conoscenze mie sono come lo sposo che viene a sposare le creature con nuovi vincoli con uscire le nostre mani creatrici onde mi sentivo stanca e sfinita per l'obbligazione del mio dolce Gesù la povera e piccola anima mia me la sentivo che non ne poteva più senza colui in cui aveva centrato le mie speranze e tutta la mia stessa vita senza di lui tutto ciò che io facevo insegnatomi da Gesù mi sembra un gioco preghiere fantastiche non di gloria di Dio e quindi provavo tale svogliatezza nel fare il mio giro che a stento andava avanti ma mentre sfinita continuavo il mio giro mi sono sentita che Gesù sostenendomi mi spingeva da dietro dicendolo figlia mia avanti non volerti fermare tu devi sapere che tutto è stabilito dal mente supremo preghiere atti pene sospiri che deve fare la creatura per ottenere ciò che noi stessi vogliamo darle ed essa sospira di ricevere sicché se questi atti non vengono compiuti non spunta da noi il sospirato sole in mezzo alla lunga notte dell'umana volontà per formare il giorno del regno del fiat divino perciò molte volte succede che si fanno tanti atti e preghiere nulla si ottiene e poi per un altro piccolo sospiro e preghiera si ottiene ciò che tanto si sospirava forse è stato l'ultimo atto che ha ottenuto il restituto della grazia ma no è stata la continuazione di tutti gli atti e preghiere e se si vede che si ottiene con quell'ultimo atto è perché ci voleva al numero da noi stabilito onde se tu vuoi ricevere il regno del volere divino non ti arrestare altrimenti mancando la lunga catena degli atti che giunge fino al trono di dio non otterrai ciò che tu vuoi e noi vogliamo dare gli atti sono come le ore che formano il giorno o la notte ogni ora tiene il suo posto alcune formano la sera altre la notte fitta altre ore l'alba altre lo spuntare del sole altre il pieno giorno e se è l'ora di mezzanotte è inutile voler vedere che punta il sole il sole è necessario che venga l'alba almeno per vagheggiare il vicino giorno per vederne la maestà che col suo impero di luce fuga le tenebre e mettendo termine la notte in perla e far risorgere tutta la natura nella sua luce nel suo calore plasmando tutto con i suoi benefici effetti ora è forse l'alba che tiene tutto l'onore di far spuntare il sole a no e se è stata l'ultima ora ma se le altre ore non l'avevano preceduta mai poteva dire l'alba io sanno che lei che chiamo il giorno così sono gli atti le preghiere per ottenere che spunti il giorno della mia volontà sono come tante ore ed ognuna tiene il suo posto d'onore e si danno la mano fra loro a chiamare il fuggito sole del mio volere divino l'ultimo atto può essere come l'alba e se questo non si fa mancherà l'alba ed è inutile aspettare che presto sorghi al suo giorno di luce sulla terra che plasmando riscaldando tutto farà sentire più che sole i suoi benefici effetti il suo regime divino regime di luce di amore e di santità così successe nella redenzione per tanti secoli la redenzione non venne perché patriarchi e profeti si trovarono con i loro atti come nelle ore notturne e da lontano sospiravano il giorno come venne la vergine formò l'alba ed abbracciando insieme tutte le ore notturne fece spuntare il giorno del verbo sulla terra e la redenzione venne compiuta perciò non ti arrestare tanto necessaria la serie degli atti che passa pericolo che se tutti non vengono compiuti non si ottiene il bene desiderato beh ci accingiamo a contemplare l'odierno spettacolo ogni mattina che si leggono nel contesto della meditazione quindi con calma con grandissima attenzione quindi con senza pensare ad altro con la mente presa e con il cuore rivolto si colgono si percepiscono perle preziose ecco sfumature davvero importanti che evidentemente ad una lettura veloce superficiale tipo quotidiano tipo giornaletto insomma non sarebbero mai chiare anche oggi veramente il signore ha ha fatto un espluato ha fatto una lezione magistralis dicendoci delle cose importantissime allora numero uno si sta per aprire questa casa della divina volontà che aveva avuto il padre annibale di francia e che sarebbe stata abitata poi e luisa si chiedeva ma staranno qui attenzione quelle anime che saranno il principio dell'inizio dell'inizio di quella era divina capiamo no come noi siamo ancora al principio magari meglio che al principio sarebbe dire l'inizio perché c'è un principio dell'inizio quindi c'è un principio proprio i pionieri assoluti poi c'è come dire una fase intermedia dell'inizio e poi c'è un inizio che è quasi finito quindi cioè l'inizio comincia poi a a vedersi il film no quindi preparativi l'introduzione ecco qui è come un libro che c'ha l'introduzione no poi c'è l'incipit no è così io credo che anche tutti coloro che in questo momento storico ci stanno credendo ci stanno investendo stanno operando si stanno impegnando si stanno sforzando fanno parte di questo principio in loro la divina volontà già comincia a regnare e credo che da quello che Gesù ci dice è grazie a loro che è a loro contributo che i tempi di avanzamento della notte perché qui c'è anche questo questo tema saranno saranno possibili a condizione che rimaniamo fedeli perché ci spiega molto bene se manca anche solo l'ultimo atto qui non se ne fa niente l'alba non sorge c'è un passo molto bello credo di averlo messo anche recentemente in qualche tweet dell'antico testamento che dice sentinella ma quanto manca al termine della notte perché la domanda che in molti ci facciamo no quanto manca questo regno della divina volontà ma soprattutto quanto manca alla fine delle tenebre profonde in cui il mondo adesso è proprio immerso quindi non si vedono ad uno sguardo umano spiragli di luce no ma se fuori è buio pesto dentro le anime che vivono nella divina volontà c'è il sole divino proprio tanquam non esset io invito profondamente a pensare a queste a queste cose cioè ricevere in questi tempi questo dono così grande penso che non ci siano parole per ringraziare il signore penso che pochi ovviamente anche io si rendano conto di quale grande grazia è stata cioè perché cioè che ti splenda nel cuore la luce del sole quando fuori ci stanno le tenebre che si tagliano col coltello cioè non è che un mistero questo qui no cioè è abbastanza evidente quale grazia più grande poteva farci il signore come non come come non stare con un cuore grato cioè tonito senza parole no ecco poi Gesù dà istruzioni perché c'è sempre questo doppio questo doppio filo che noi dobbiamo tenere presente quindi la venuta del regno della divina volontà nella terra sul mondo nel mondo e questo però vale anche evidentemente nella nostra anima come fa a venire il regno della divina volontà Gesù lo spiega ma ogni detto opera e sacrificio che si fa nella mia volontà e per ottenere il regno divino attenzione sono tanti i messaggeri poi qui comincio a parlare delle bellissime no delle circolari oggi si parla tanto di circolari un termine che è abbastanza odioso per i tempi in cui viviamo no le circolari ecco che generalmente sono fuoriere di cattive notizie qui ci sono circolari bellissime nel senso che questi atti che noi compiamo cominciano a circolare nel cielo e vanno dagli angeli vanno dalla sovrana celeste vanno dallo stesso creatore e addirittura Gesù ci dice questa circolazione che noi attiviamo attenzione perché gli atti li facciamo noi le opere le facciamo noi i sacrifici l'importanza dei sacrifici ieri è stata la festa di San Pio da Pietrelcina io nell'umeria serale ho cercato di evidenziare ma che cosa ha fatto perché San Pio da Pietrelcina sì forse non so quanto conoscesse di questi scritti certo è contemporaneo di di Luisa non sono informato se conoscesse non conoscesse quanto conoscesse sicuramente una cosa Padre Pio l'ha fatta ha tenuto ha tenuto a bada il diavolo lo ha tenuto incatenato in parte fino a quando almeno fino a quando c'era lui almeno in Italia non aveva fatto danni così grandi appena è partito è successo il filimondo e come ha fatto a realizzare quest'opera anzitutto attraverso il sacrificio la sofferenza sono tutte quante cose che si portano nella Divina Volontà oggi e venerdì chi e Dio lo benedica il venerdì cosa lodevolissima fa il digiuno come vuole c'è il digiuno canonico c'è il digiuno a pane e acqua c'è il digiuno assoluto per chi è proprio un piccolo eroe che vuole dare molto al Signore il digiuno assoluto significa che si trascorre la giornata soltanto con le bevande quindi con l'acqua con qualche bevanda magari un pochino zuccherata per tenersi un pochino tonici cioè fatto da un'anima che vive nella Divina Volontà e che invoca il regno quindi portato questo gesto nella Divina Volontà ma quanto grande sarà il cospetto dell'Altissimo cioè già il digiuno così come tutte quante le sofferenze offerte sono cose grandi davanti a Dio ma fatto nella Divina Volontà ricordiamo sempre che diventa un atto divino eterno infinito eterno immenso quindi c'è una forza immensa c'è un potere grande non è un digiuno normale diciamo così allora Gesù ci informa anche che questi atti producono non soltanto la gioia degli abitanti del cielo ma attenzione l'estasi del creatore possiamo far andare in estasi il creatore certamente sì non è un gioco questo lo dice lui lo dice se uno legge per esempio il testo la Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà si vede insomma che la Madonna e il creatore facevano le gare insomma a chi a chi si mandava in estasi di più bellissimi questi particolari no? cioè pensare che uno manda in estasi il proprio creatore cioè non è che è una cosa tanto piccola per quanto rimaniamo esterrefatti cioè io faccio un atto nella Divina Volontà faccio una piccola fusione faccio un atto attuale faccio un atto preventivo faccio un piccolo giretto oggi non si mangia però un giorno che mangio dico signora mia ricevo il tuo ti amo da questa creatura che sto mettendo nella bocca e lo ricambio con il mio ti amo per me per tutti faccio questo e il creatore va in estasi credo che se la dicesse una persona normale una persona comune magari ci sarebbe anche il pericolo di formulare qualche infiezione mi dice eh avete credito di essere che mandi in estasi il creatore però qui lo dice Gesù e non è che il creatore va in estasi come dire per meriti della creatura o per che vede qualche cosa nella creatura il creatore non può andare in estasi per una creatura ma perché vede nella creatura la stessa fonte della sua stessa eterna beatitudine e felicità che è la Divina Volontà quindi tutti questi atti dice Gesù questi circolari che cosa sono sono spinte a muovere il mio volere che venga a regnare in mezzo alle creature quindi bisogna farli perché una volta che vengono fatti dice Gesù si attiva il cielo a porre in essere tutti i preparativi eppure la terra e qui fa il primo esempio molto 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 grazioso molto interessante dice lo sposo non è che uno si sposa dall'oggi al domani prima che ti sposi devi trovare la casa devi arredarla la casa quindi devi comprare la stanza da letto devi comprare la cucina devi comprare il bar devi comprare tutto insomma no devi metterci un po' dei quadri mobili eccetera poi devi fare terapia da sposo poi devi prenotare la chiesa poi devi fare il corso prima matrimoniale d'accordo poi devi fare gli inviti le partecipazioni la prenota al ristorante tutto devi preparare quindi il matrimonio chi l'ha fatto lo sa cioè è abbastanza impegnativo perché richiede dei tempi di preparazione notevoli tante cose da fare no è chiaro che se non fai i preparativi difficilmente uno si sposerà se mi devo sposare ma non c'ho la casa non c'ho il letto dove dormire dove dormiamo io e mi muoio cioè come facciamo a vivere da marito e moglie se non abbiamo la camera da letto non c'ho le vesti perché con che fate mi vado a sposare in jeans e maglietta che faccio e quindi non ci pensa più allora tutti questi atti dice Gesù sono i preparativi minuziali mentre le conoscenze stesse attenzione sono lo stesso sposo che viene a sposare le creature con i nuovi vincoli poi Gesù dice ancora un'altra cosa Luisa prosegue dice ma c'è un momento in cui mi sento un po' svogliata cosa che può capitare a tutti quindi faccio gli atti faccio i giri però li faccio proprio tanto per farli insomma con la testa per aria forse adesso non non vorrei prestare a Luisa cattive passioni o sentimenti o imperfezioni che non aveva no sembra di capire questo insomma no tutto ciò che facevo assegnato da Gesù mi sembra un gioco preghiere fantastiche qui non intende fantastiche in senso in senso buono no ma nel senso di fantasiose quindi mi sembra che sto a fare un sacco di film mentali sto a fare un sacco di fantasie inutili ma quale è la gloria che viene a Dio da queste da questi pensieri e qui Gesù di nuovo interviene e dice un'altra cosa continuando il discorso già fatto allora questo lo sappiamo però ogni tanto è bene ripassare tu devi sapere che tutto è stabilito dall'ente supremo nella tua vita nella mia vita cioè per esempio io ho conosciuto il dono della divina volontà quando l'ho conosciuto perché era esattamente quel momento in cui doveva essere conosciuto è chiaro che dietro questa cosa vale per me vale per te c'è tutta quanto una vita ci sono delle esperienze vissute ci sono delle storie speriamo belle con il Signore ci sono degli atti compiuti non è che è venuta così allora che succede questo vale anche per esempio pensiamo alle persone che chiedono le grazie ieri era sempre padre Pio tra l'altro ringrazio qualcuno che in diretta mi ha rinfrescato la memoria perché questa cosa l'avevo sentita anch'io padre Pio alle persone che venivano da Corrado dicevano che ci viene a fare da me che dice sta Luisa così correggo troppo la memoria ogni tanto fa brutti scherzi ringrazio chi l'ha scritta questa cosa l'ho notata e la dico così rimane ma ieri era era padre Pio cioè quindi a proposito degli degli atti delle preghiere delle preghiere delle preghiere delle preghiere no padre Pio pregava tantissimo pregava tantissimo e diceva vuoi sta grazia quanto sei disposto a pagare tutto si paga lui diceva ma attenzione non diamo un senso negativo a questa espressione non è che uno fa il commercio però se il nostro signore ha stabilito per darti questa grazia ci servono 300 rosari adesso dico una cosa tanto per dire ma non possiamo entrare nella mente della nostra signore è una cosa verosimile questa qui non è una cosa inverosimile abbiamo degli esempi lampanti io faccio sempre l'esempio della mamma di Sant'Agostino quanto è costata la conversione di Sant'Agostino 30 anni di preghiere e di sospiri della madre questo è costato messa tutti i giorni a invocare la grazia dico sempre e se la madre di Sant'Agostino è arrivata a 20 anni dice senti io mi sono stufata questo sta a fare il matto in giro è tutto intelligente sta presso alla retorica sta presso alle donne non c'è più niente da fare non avremmo avuto Sant'Agostino quanto costava Sant'Agostino 30 anni di preghiere della madre 30 fatte poi in quel modo quindi commesse comunioni eccetera eccetera capiamo? molti adesso viviamo tempi complicati difficili si chiedono quando torneranno le cose come prima ah no non torneranno mai allora dobbiamo aspettare la nuova era ma quanto ci manca la nuova era fino a quando ma allora per carità sono considerazioni magari anche umanamente comprensibili no? molti uomini adesso sono molto stanchi sono molto provati quindi è normale che gli spuntino certi come dire certi pensieri però qual è la risposta? quando Dio quando Dio dirà bene il tempo della purificazione è finito il tempo della preparazione è terminato il tempo della restaurazione del rinnovamento è arrivato e nel frattempo chi è che deve concorrere a questo? evidentemente a tutte queste cose concorrono principalmente diciamo così chiamiamole così le anime buone chiamiamole così per farci capire non è che ci stanno dei buoni e cattivi no? però insomma quelle che ci credono un pochino quelle che pregano un pochino quelle che soffrono un pochino che fanno i sacrifici che offrono i sospiri offrono le pene offrono gli atti offrono le preghiere e senza scoraggiarsi senza dubitare perché Gesù dice quanto è lunga la notte la notte è lunga ma l'alba tanto arriva capito? abbi pazienza quanto manca la fine della notte sentinella quanto Dio vuole quanto manca quanto Dio vuole noi facciamo in modo che questo tempo passi il più presto possibile facendo quel poco che possiamo fare noi e il resto lo farà nostro Signore allora Gesù questo lo applica a tutti i livelli per venire la redenzione l'abbiamo visto tante volte i profeti quanti sospiti hanno fatto manda il Messia manda il Messia manda il Messia tutti i profeti ma dice Gesù i profeti sono vissuti in questa metafora nel tempo in cui era ancora notte erano luna di notte poi l'Esaia che ha visto tutte quante le cose che sarebbero successe all'umanità santissima di Gesù che ha scritto i quattro carmi del servo di Yahweh che sono bellissimi dice che ho che non poteva pensare l'Esaia dice ma che ho scritto quando arriverà questa cosa quando si compiranno queste cose passate gli otto secoli prima c'era scritto otto secoli prima capiamo no? quindi però quello che è importante è che le cose decise da Dio purché si compiano tutti quanti gli antecedenti ma Dio dispone in modo tale che queste cose succedano ordinariamente non dobbiamo crogiolarci perché dice pure che attenzione che se manca l'ultimo atto l'alba non viene però ordinariamente è così quindi dobbiamo semplicemente concorre dice arriva la Madonna e la Madonna ci porta all'alba della redenzione completa gli atti mancanti ha fatto più lei chiaramente i 14 anni che in 2000 anni evidentemente l'istoria della salvezza su questo nessuno c'ha dubbi però ha preparato l'alba della redenzione o no così sarà per l'era nuova per il regno della divina volontà siamo tutti quanti coinvolti tutti tutti quelli che ci stanno credendo agiamo anche in un contesto magari così civile forse anche ecclesiale nella chiesa sono ancora molti che non neanche conoscono questa cosa sì siamo in un punto già discreto nel senso che Luisa ha il processo di beatificazione in atto che però è un po' fermo è rimasta serva di Dio gli iscritti stanno a congregazione della dottrina della fede ma è da diverso tempo che stanno lì quindi come dire sembra quasi che ci sia apparentemente una situazione un pochino di stallo ma è solo apparente non andiamo avanti cioè questa cosa qui si farà perché se Dio si era messa in testa si farà ma ci stanno dei problemi magari la congregazione della dottrina della fede ha sollevato tante obiezioni magari su certe è quello che c'è adesso saranno le due di notte saranno le tre di notte non lo sappiamo ma sicuramente tutto questo come neve al vento si scioglierà non cioè l'importante è che tutti dal proprio posto di guardia facciano nel piccolo il proprio lavoro questa è un'operazione divina e le operazioni divine dice Gesù sono tutte quante stabilite tutto è stabilito dall'ente supremo preghiere atti pene sospiri che deve fare la creatura per ottenere ciò che noi stessi vogliamo darle ed essa sospira di ricevere questo vale anche per noi per la nostra santificazione dice ma io voglio tanto vivere nel tenere di una volontà non ci riesca sta connesso H24 continua persevera il Signore ti guarda e ti dice quanto ci tieni ci tieni sul serio e vai avanti non te l'ho ancora data questa 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 grazia della connessione perpetua prosegui provaci sforzati ieri non ho fatto neanche un altro altro fa niente oggi ne farai di più avanti avanti vale che Dio ha fatto così e se non ci arrivi cioè quando è che una persona esce dal purgatorio quando è che una persona ha la visione beatifica pur se non ci passa per il purgatorio quando gli atti necessari alla sua purificazione perfettissima quindi a espiare anche la più piccola imperfezione involontaria e a purificarla sono compiuti prima non ci si va in paradiso tu puoi stai piangere come te pare puoi farti tutte le illusioni che vuoi fino a quando questa condizione non si compie in paradiso non ci si va ok e Gesù dice arriverà un giorno noi lo vediamo ci speriamo lo vedremo noi questo giorno non lo sappiamo ma forse anche nella tua vita arriverà un giorno in cui comincerai a sentirla davvero sta divina volontà tu dici ma che è successo che ho fatto ieri ma non è quello che hai fatto ieri certo anche ieri hai fatto qualcosa ieri hai fatto l'ultime capito ma conta quello che hai fatto l'altro ieri un mese fa due mesi fa un anno fa due anni fa dieci anni fa la nostra vita la nostra vita funziona così ecco perché concludo la costanza e la perseveranza questo ricordiamocelo sempre ricordiamocelo sempre è una delle virtù basilari perché se ci si ferma a metà dell'opera ecco è la fine abbiamo celebrato padre Pio abbiamo citato in continuazione facciamo l'ultima padre Pio diceva la fede non è di chi bene incomincia o di chi va avanti per un certo tempo ma di chi persevera fino alla fine clicchiamo questa cosa sulla divina volontà e andiamo avanti alla grande sicuri che è solo questione di tempo l'alba arriva ecco sappiamo però che per farla arrivare noi dobbiamo metterci la cooperazione nostra grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.